Ciao a tutti ragazzi e ragazze, signore e signore, bentornati al mio canale. Oggi farò un video breve, ma molto molto intenso. È come al solito che mi piace fare quei video motivazionali, di crescita personale e perché no, anche di ispirazione. Spero che a qualcuno possa servire e possa ispirarsi anche a me. Quindi, il giorno più importante della tua vita è quello in cui capisci che la vita che stai vivendo è che ti piaccia o meno l'unica che hai e che non è certo infinita. Certo, di tempo ne hai, per crescere e crederci, per cambiare strada, per fare un mare di errori, per piangere ed emozionarti, per incontrare gli altri davvero, per scoprire un mondo che non conosci, per scegliere un'altra strada, per riprovare ancora. Tempo ne hai, ma non è certo infinito. E allora a cosa serve essere sempre arrabbiati? Perché lamentarsi, accusare gli altri e rimuginare su vecchie ferite? La vita che vivi è l'unica che hai. E forse puoi scegliere, oggi stesso, di iniziare ad amarla, sentirla, darle il valore che merita. E se non è la vita che vuoi, allora muoviti e inizia a cambiarla. Non c'è vita senza rischi da correre. E non esiste un giusto o sbagliato che sia per tutti. La cosa giusta, tra virgolette, è solo quella che senti ascoltando il tuo cuore. Spero vi sia piaciuto questo video e lasciate come sempre un like, siete tantissimi e vi ringrazio. Commentate, potete anche condividerlo con i conoscenti, con i vostri amici che potrebbero ispirarsi a questi video. Ciao ciao, buona giornata a tutti, ma soprattutto buon fine settimana. Ciao, buona giornata.